In questo numero del Salus Tg. Gimbe, sprechi in sanità avoragine da 25 miliardi nel 2014. Il rapporto, un italiano su 5 ha oltre 65 anni, boom di ultracentenari. Nel 2030 i disturbi mentali saranno le malattie più frequenti al mondo. Ben 25 miliardi di euro sono stati sprecati in sanità nel 2014, circa il 23% del totale della spesa, 111,4 miliardi. Le voci che hanno gravato di più sono l'eccessivo numero di prestazioni inefficaci, inappropriate o troppo costose rispetto ai benefici reali e la corruzione, male italico che si annida anche nell'SSN. Queste le cifre illustrate in apertura della decima conferenza nazionale Gimbe. Sarebbe opportuno che anche il Ministero provvedesse a elencare una lista di prestazioni che non sono più essenziali perché l'innovazione tecnologica le ha sostituite anche per guidare le organizzazioni sanitarie del regione a decidere su che cosa disinvestire. In medicina e sanità, less is more quindi. Oggi fare di più non significa fare meglio. L'eccesso di tecnologia sta creando nuovi malati. Oltre un connazionale su 5 ha più di 65 anni. I giovani anziani tra i 65 e i 74 anni sono oltre 6 milioni, pari al 10,6% della popolazione residente. Si conferma per il boom degli ultracentenari. Sono molto più che raddoppiati nel periodo 2002-2013, passando da poco più di 6.100 nel 2002 a oltre 16.390 nel 2013. E di questi l'83% sono donne. È quanto emerge dalla dodicesima edizione del rapporto Servasalute. Ansia, depressione, demenza, dipendenza, disagio psicologico che spesso si trasforma in sofferenza fisica. Nel 2030 i disturbi mentali saranno le malattie più frequenti nel mondo. Secondo gli ultimi dati, il 38,2% degli abitanti del vecchio continente ne soffre per un totale di quasi 165 milioni di pazienti. Solo uno su tre riceve farmaci o altre terapie. Gli altri non vengono curati.